Previsioni meteo per martedì 12 febbraio Al nord, nubi con locali nevicate a bassa quota, soprattutto su Alpi e Prealpi Pioggia e neve sul Friuli, meglio altrove al nord Al centro e al sud, temporali diffusi Forti su Campania, Basso Tirreno e Puglia Piogge con neboli devicate tra Lazio, Bruzzo e Molise Venti, da poco forti a forti Mari, mossi Temperature, stazionari o in diminuzione